C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Salve! Buonasera! Buonasera? Chi cerca? Cercavo Pat, sono un'amica di Pat. Ah, sì! Scusi, è che è un po' tardi. Ora gliela chiamo. Sono solo le tre. Dice? Non saprei. Pat, dove sei? Ti sento ma non ti vedo. Eccola qui! Mamma mia! Vieni Pat, vieni! C'è una tua amica che ti vuole parlare. Dove? Qui al telefono in videochiamata. Vieni! Ciao Pat! Ciao! Allora, ti volevo dire che domani sarò presente alla tua merenda. Di domani pomeriggio dove ci sarà quella bellissima. Sì, sì, abbiamo capito. Scusa Pat, ma me la vuoi presentare questa tua amica? Come si chiama? Teresina! Signora Teresina, è un piacere conoscerla. È un piacere mio, piacere mio. È un momento che stavo dicendo una cosa importante. Prego. Pat! Pat! Ma domani ci sarà anche... Anche Remo! Sì! 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 Emozionatissima! Allora, allora... Scusate, ma chi è Remo? Eh, Remo è un tipo, ecco, diciamo che è un tipo di cui mi sono innamorata. È un tipo vantaggieloso! È un tipo di topo! È un tipo di topo, esattamente! No, per niente! Bene! Ma me lo descriva! Mi descriva il pupazzo Remo! Eh, allora, è bellissimo! È tutto bronzato! È proprio tutto bronzato! Sì! Ha un sacco di capelli e proprio è sempre curioso! Sì! Sì! Lo sa che mi sa che è anche patta un debole per Remo? Però, hai rotto l'amore a me! Va bene, dai! Non siate gelose! Capita? Perché Remo fa gelo e gelo! Ah, Remo è gelo! Signore, credo che il fardo orario vi stia dando un po' la testa! Comunque, Teresina, lei è molto bella con questi capelli! Grazie, grazie! Ho appena fatto la messa in piega dal parruccio! Oh, che brava! E senta, Teresina, una cosa! Che cosa le preparo da mangiare? Eh, io mi piace molto il tè con i biscottini da tè! Scusate! Io queste vostre battute non le capisco! Comunque saranno battute tra pupazzi! Sì, Pat, parla! Posso chiedere una cosa? Prego! Il mio fidanzato vorrebbe entrare? Uh, signor! Mi scusi, Teresina, le devo presentare! Il fidanzato non gli dica niente di Remo, eh! Non gli dica niente! Certo, certamente! Prego, fidanzato, venga! Buonasera! Buonasera, piacere! 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 Stasera conosciamo tante persone nuove! Sì! È vero? È vero! Bene! È vero? Che sei, Terbi! È vero? Sì! Va bene! Allora, signora Teresina, l'aspetto domani alle 16.30, mi raccomando! Scusi, Emma, mi sta riempendo gli stelacchi! Sì, sì! Baci! Per voi! Baci, Teresina! È stato un piacere conoscerla! Arrivederla! Buonanotte! 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 Buonanotte!